Fun Numbers Bene bene, è forse Yugi quello che vedo e ha portato anche un amico. Lui non è un amico, Kaiba. Yugi mi ha detto che sei la più grande minaccia al mondo, quindi come campione Pokémon credo sia mio dovere fermarti. Voi due pagliacci arrivate troppo tardi per fermarmi. Dopo anni di battaglie contro duellanti senza prevalere, ho finalmente capito. Non devo duellare contro nessuno di voi. Posso semplicemente ignorarvi e usare le mie carte per distruggere il pianeta. Aspetta Kaiba, osserva! Io evoco il mago nero Kaiba, combatti! No, non riesco a sentirti, Yugi! È troppo potente! Io evoco il drago bianco occhi blu e gli ordino di attaccare il nucleo della terra! Kaiba, ti prego! Cosa sta per fare? Dobbiamo assolutamente fermarlo! È troppo tardi, Yugi! Moriremo tutti! Visto? Te l'avevo detto, Yugi! Levati dalla strada! Sta zitto, stolto! Non vedi che il mio drago bianco occhi blu sta distruggendo il tuo pianeta? Mi hai sottovalutato, Kaiba! Ho portato con me la carta più forte del mondo! Cosa? Tu hai quella carta! Già! È proprio quella la carta a cui mi riferisco! Come hai fatto a ottenere Exodia? Oh, si chiama così! Ho solo cercato la carta più forte di Yugi su Amazon e l'ho comprata per 10 dollari! Impossibile! Pensavo che quella carta fosse nascosta nelle profondità delle antiche piramidi egizie! Chi avrebbe mai pensato che ottenere Exodia fosse tanto semplice quanto andare su Amazon? Dove si trova? L'ho messa a faccia in giù proprio lì! Cosa? Fammela vedere! No, Kaiba! È a faccia in giù! Non puoi vederla! Ben fatto, ragazzo! Sembra che il cuore delle carte sia dalla nostra parte, dopo tutto, Kaiba! Arrenditi ora! Ti darò qualsiasi cosa per quella carta! Ecco! Prendi il mio drago bianco occhi blu! Guarda quanto sei patetico, Kaiba! Perché mai dovremmo rinunciare a Exodia? Andata! Cosa?! Che stai facendo?! Scusa, Mico, è un'offerta che non si può rifiutare! Guarda, Yugi! Ho Exodia adesso! Potrai anche sconfiggermi, Kaiba! Ma non sconfiggerai mai il cuore delle carte! Mi ci pulisco il culo con il cuore delle carte! Exodia! Tagliettalo! Stai palesemente fingendo! Amico, dai, alzati, è imbarazzante! Tu sei il prossimo! Exodia! Agnienttalo! Vittoria di Kaiba! Tu hai perso! Io ho vinto! Pikachu! Sei finito! Come sei sopravvissuto il mio Exodia! Se avessi guardato più da vicino quella carta avresti notato che in realtà è la mia carta di credito! Coditi il debito scoperto! Cosa?! Quindi, io... Vuoi dire che non sono stato sconfitto da Exodia?! No, amico! Non so nemmeno perché stessi facendo quella sciocchezza del ding ding ding! Nessuno delle sue carte può ferirti fisicamente! Due uomini adulti che si comportano così! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti! E voi? Preferite Pokémon o Yu-Gi-Oh! O Magic! O tutti e tre! Eh? Mi piacere dai! Ah, e ringraziamo Mike Ward per la sua donazione! Grazie ragazzo! Per noi è molto importante! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo!